ciao a tutti appassionati di anime manga sono alex come sempre video seguimi qui su youtube su instagram su twitch e anche nel mio bottega per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione oggi farò la recensione di blam questa è la master edition edita da panini prezzo 18 euro a volume uscito il confanetto completo 108 euro ovviamente il calcolo giusto avete il confanetto in omaggio formato molto molto grande formato stesso di akira la nuova edizione esattamente come akira e genere cyberpunk qualcosina ci vedi di akira e soprattutto come ambientazione stile di disegno dove abbiamo questo protagonista killi che è una semi umano una specie di umano creato da net spear questa rete informatica che appunto il suo compito di killi è trovare degli umani con dei geni che sono in grado di controllare net net spear questa rete questa rete che hanno i geni del controllo di rete appunto riuscire a fermare la crescita indiscriminata della città della metropoli questa metropoli divisa su vari livelli sotterranei che sono infiniti sia in altezza che in profondità e i vari livelli sono divisi davvero con delle strutture giganti che impediscono l'accesso tra un livello e l'altro però è davvero un mondo quasi immenso città futuristiche ma disabitate completamente dove gli unici esseri che ci vivono sono degli esseri fatti di silicio che a loro volta cercano questo essere umano col gene di controllo di rete per appunto per entrare in net spear e contro la loro volta questa città che per appunto dicevo si cresce si evolve indistintamente incontrollatamente con delle macchine che costruiscono in continuazione sempre di più la città senza quasi avere un vero motivo per farlo senza quasi uno schema logico neanche costruiscono riparano in continuazione e solo per appunto questi umani sono in grado di controllare questa rete queste macchine ovviamente c'è anche a se guard se il guard che è un'unità assoluta costruita e gestita dallo stesso net spear che è praticamente un po come internet un'intelligenza artificiale che uccide e distrugge chiunque che non sia un umano con il gene quali controllo che sono i suoi unici padroni che riconosce e quindi qua praticamente ogni essere è tuo nemico ogni essere che si muove è potenzialmente letale chili ha una pistola a raggi gravitazionali che è davvero devastante è un'arma di distruzione di massa contenuta in una mano infatti tutte le volte che spara il rinculo è talmente potente che lo rimbalza indietro chili ma quasi tutti gli esseri che troviamo all'interno del manga sono quasi immortali quasi indistruttibili un po la matrix la loro memoria si può togliere e accumulare e permetterla e ricostruire l'entità se dovesse essere morta per costruire con un altro corpo però hai tutti i ricordi dal tuo vecchio corpo poi hai comunque dei link che ti escono dal corpo per collegarti ad altro un po come in ed si vede parecchio anche in ed è questa cosa esseri con dei tubi strani che escono che non si sa bene cosa servano però che possono collegarti a un altro essere e guardare i suoi ricordi oppure assumere il controllo di quell'essere chili è l'unico no incontrerà un'alleata cibo scibo si dove pronunciare scibo scritto ci ma si pronuncia scibo e per l'appunto che è un'umana però non col gene perché sono davvero molto rai non si sa chi trovano però ha una mandare per per certi momenti piccole macchine a scoprire certe verità dalle macchine e quindi li aiuterà nel lo aiuterà nel suo viaggio che sarebbe tempestato da scontro all'ultimo sangue mozzafiato esseri creature gigante mastodontiche con armi di istruzione di massa dovunque missili raggi laser poi battaglie futuristiche che per appunto distruggono qualsiasi cosa si vede cercano per appunto questi tutti sta cercando questi umani col gene di del controllo di rete ci riuscirà non si sa perché finale è molto aperto come finale molto particolare come finale in effetti c'è chi piace chi no però è un'opera davvero mastodontica proprio perché per i disegni che ci sono per il concetto così futuristico spesso i dialoghi qua sono proprio ridotti all'osso non di rado vediamo pagine decine di pagine ventine di pagine senza un minimo di testo solo vedere le figure i disegni e qua diciamo che è un maestro l'autore tuttomoni ei che ti fa capire ti fa progredire la storia solo coi disegni perché il testo ripeto proprio ridotto all'osso all'essenziale quindi è una tecnica molto particolare per creare questo per creare un manga e alcune ogni tanto ci sono delle pagine a colori ma raramente devo dire molto futuristico con esseri che ricordano un po' richiamo di tulu un po' di esseri da incubo di tuttulu di appunto e quindi davvero quasi alieni ecco creature quasi alieni essere di silizio metà esseri di carne metà macchine un miscuglio di umanoidi cyborg degli insetti giganti che sembrano quasi alieni che divorano le strutture metalliche davvero è un manga molto intenso con molta azione davvero passa da un momento lato una scena all'altra il ritmo è incalzante di questo manga davvero non è un momento di respiro come gli stessi protagonisti che non hanno proprio un momento di pace per dire ok ho finalmente mi riposo ragioniamo un po' sul da farsi proprio non c'è un momento di trego un momento di pace sempre un passo della morte pezzi di atti che volano di qua di là anche esplosioni di teste che però ti crescono un po' la netflix ecco c'è la netflix alla matrix ecco scusate non netflix e davvero qualcosa di molto futuristico appunto il genere cyberpunk e faccio vedere giusto qualche disegni qualche tisini davvero che ti colpiscono e alcune scene sono anche confusionarie cioè scene davvero belle piene che non sai neanche dove neanche tu dove guardare su cosa focalizzarti perché davvero sono tavole davvero belle piene che passano da un'azione all'altra in modo repentino e ripeto non c'è momento di respiro a leggere blam e davvero secondo me è un ottimo manga lo consiglio molto soprattutto se piace questo genere se è piaciuto akira o se è piaciuto eden ve lo strastra consiglio è molto fantascientifico ovviamente ma proprio questa particolarità che mi ha colpito che è poco testo cioè ripeto ridotte all'essenziale già all'inizio primo volume ci sono stati 10 15 20 pagine senza testo proprio è uno scorrimento molto molto veloce e città davvero futuristiche la storia interessante intrigante ma secondo me non è proprio la parte fondamentale di questo manga la parte più bella è proprio nei disegni nel saper raccontare la storia solo con i disegni è davvero stato un maestro in questo super apprezzato direi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se l'avete letto se volete recuperarlo noi ci vediamo prossimi di mi raccomando attivate la campanellina e iscrivetevi